Ehi, ciao a tutti ragazzi, sono Tecno e benvenuti in una nuovissima Bad Wars. Ci troviamo nella mappa Desert City e io faccio parte del team blu. Vediamo un po' gli altri team da quante persone sono composti. Allora, noi ne siamo 6, i rossi ne sono 5 e un giallo. E ok, per ora sembra equilibrata, a meno che Thor dei verdi non se ne va nei rossi, così almeno non sta messo male, perché da solo che può fare. Certo, potrebbe far qualcosa, ma è difficile comunque. Vediamo un po', ci vediamo direttamente in partita. Ok, partita iniziata. Io vado subito a prendere i lingotti di ferro, che sono tutti miei. Dove andate? Dove andate qui, che sono tutti miei? Vabbè, uno mi va bene. Dai, mi faccio subito una protezione, perché tanto già so che non mi faranno prendere più niente da ora in poi. Quindi è meglio farla subito una protezione. Ok, adesso andiamo a raccogliere un po' di lingotti, così facciamo subito il ponte. Ok, mi rifiui a prendere? Vabbè, sono costretta ad andarmene, mi rompo di aspettare lì, veramente. Allora, blocchi, dieci, ok. Posso? Villager, ciao villager. Fammi fare un po' il ponte a me, dai. Che vado molto molto più veloce. E dai! Così no! All'indietro, ragazzi, si perde molto più tempo. Bisogna mettersi di lato. Almeno io ho notato che mettendosi di lato si va molto più veloci. Vediamo. Cioè, vedete? Rispetto a mettersi di spalle, si va molto più veloci. Io ho finito i blocchi e mi dispiace. Non ne ho potuti prendere altri. Stavano tutti camperando lì sopra. Ok. Eh, sì. Guarda chi parla, chi si è fatto tutta l'armatura per bene. Vabbè, ormai i rossi sono già arrivati al centro, quindi... Dai, fatemi fare sto ponte. Adesso andate a distruggerli. C'è qualcuno dietro, lo so. Oh, io scappo. Aspetta, me mi sacrifico e lo butto giù. Ok. Non ci sono morto, per fortuna. Grande. Ci muori. Ok, andate tutti a prendere l'oro. Io ho bisogno di cibo. Di cibo? Vabbè, però dai... Aspetto due o tre minuti. Almeno arrivo a quattro lingotti d'oro. Se è possibile, me li prendo. Dai, appena... Saranno arrivando i verdi. Io sto morendo di fame. E non posso perdere, quindi... Me ne torno indietro. Almeno mi faccio una coraccia, una spada. E... E con uno di oro, almeno mi faccio una... Pozione di forza. Sicuramente, questo sì. Ok, tanti, tanti lingotti. Tutti i miei, tutti i miei. Ah, ok. Ti sei tolto? Grazie. Almeno arriva tre, mi faccio una spada. Uuuuh. Sta arrivando uno dei blu. Ah, ma noi siamo dei blu. Ragazzi, scusate. Io all'inizio... Non so mai di che team faccio parte. Ormai è la tradizione che vuole così. All'inizio non devo sapere di che team faccio parte. Mi devo spaventare. Il gioco vuole così. Me ne serve uno. E poi ti faccio andare a te. Dai, l'ultimo, l'ultimo. Sbrigati. Ok, grande, grande così, dai. Allora, allora, assolutamente. Finiamoci di fare la protezione. Ok? Ora, tanto, tanto cibo. E ovviamente, una spada. E una pozione cina di forza. E siamo messi benissimo così. Ok, vediamo se ci sono altri compagni di squadra. Al centro c'è Rupert69Face che sta facendo una strage al centro. Spero che non stanno andando le verdi. Ah no, no, no. Già ci sono alcuni dei miei amici al centro. Quindi dai, approfittiamo e ammazziamoli tutti. Tanto abbiamo la pozione di forza. Ok, ci sei morto, caro amico mio. Se arriva qualcun altro per me... È la fine. Ho sentito qualcuno buttarsi. No, questo è dei... Eh, ma non ti rubare. Tu sei nudo. Morirai. Lasciali prendere a me. Ok, ci muori. Ok. Ok, tre a me. Perfetto. Hanno il settiletto di green. Ottimo. Ottimo, dai. Dai, un altro spawn d'oro e me ne vado, ovviamente. Questi sono i miei. Ok, io torno già indietro. Così mi faccio una spada d'oro. E una mela d'oro. E di nuovo una pozione. Non mi conviene stargli accamperare. Poi, con la che stava raccogliendo l'ingotti d'oro con me. Era abbastanza nudo. Quindi, non mi fidavo a stare con lui, sinceramente. Ci muore subito, eh. Quindi, una meluccia d'oro e una pozione di forza. Tanto il piccone adesso me lo faccio con... Con il restante dei lingotti di ferro. Arriva due e mi faccio un piccone. Ok, buttiamo queste schifezze. Ok, due. Va bene, dai. E adesso sono pronto per massacrare tutti. Chi è questo? Ah, villager. Se ritornate tutti indietro, mi lasciate da solo o al centro? Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Questo sicuramente lo ammazzo, ma si ritorna di nuovo indietro, ovvio, eh. Ok, per il momento sembra non esserci nessuno. E li prendo io tutti questi bellissimi lingotti d'oro brillanti. Tu dove vai, tu? Mo' ti venga ad ammazzare, te. È per forza? I verdi mo' è rimasto solo uno, quindi va ammazzato a tutti i costi. Speriamo che ci va lui. Sì, ma lo dovrebbe ammazzare, a meno che non è Nabbo e si fa uccidere. Stiamo a vedere. Intanto io mi raccoglio tutti questi bellissimi lingotti. Lord Dark è morto. Vabbè, proviamo ad andare noi. Tanto che cacchio, ragazzi, dovrei farcela con tutte queste cose. Dai, e vieni. Mi vuoi rompere il ponte? Non ci vengo tanto, non sono scemo. Ste stronzo. Tanto se resti lì io mi crafto un botto di cose. Sì, vengo! Invece no, non vengo. Oh, uno rosso. All'arco. Oddio, ragazzi, all'arco. Vediamo se riesce a fare qualcosa il mio compagno di squadra. No, no, raga, io me ne vado indietro, è ovvio. Se non mi punzecchia con l'arco, me lo faccio anch'io un bellissimo arco. E poi vediamo. E poi vediamo veramente. Allora, subito. Oh, chi è? Subito arco. Poi un'altra pozione di forza, un'altra mela. E a questo punto mi faccio il piccone migliore. Dovrei farmi anche dei blocchi. Dei blocchi perché abbiamo visto che quella verde si è distrutto tutto il ponte, quindi... Cioè, è sempre meglio portarci qualcosa. Anche se ho visto una ender chest, quindi lo sai che vi dico? Ci metto il restante dei lingotti d'oro, così non li perdo. Questi vanno nel primo slot. Spanettiamoci anche la spada. La filatezza. Perfetto. Perfetto. Me la do qui. Pozione di forza qui. E... Va bene, va bene, va bene. Siamo a postissimo. Pronti a massacrare tutti. E se perdo così veramente mi incazzo perché ci ho messo tanto. Cioè, non tanto, però comunque... I lingotti d'oro non li ho rubati. Cioè, nel senso, li sono guadagnati. Ci muori, amico mio, ci muori. Adesso andiamo a vedere che fine ha fatto il verde. Perché veramente lo voglio distruggere, eh. Speriamo che non si è fatto l'arco. Tanto ci muori. Ehm, mo ci vengo io e ti ammazzo, veramente. Riesci a saltare? Dai, dai, andiamo ad ammazzare. È un salto abbastanza alto questo. No, non mi fido a fare un salto del genere, raga. Ora sì, ora mi fido. Ora fatti vedere. Stai qua dietro. No, raga, questo mi butto giù. Ok? Ho bisogno dell'arco. Ok, ci muori. Butto bastardo. Mi volevi buttare giù. Abbiamo distrutto anche la squadra verde. Perfetto. Ora torniamo indietro. E andiamo assolutamente dai rossi. Voglio andare io personalmente dai rossi. Quindi mangiamoci un attimo una mela d'oro. Una pozione di forza. E basta, mi avete rotto. Ora vengo da voi. Ora ci vado, raga. Ora vado io e li massacro. Forse però, eh. No, no. Non mi farò buttare da te. No. All'arco fiamma. Scappiamo. Scappiamo. All'arco fiamma. Oh, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Oh, forse sono riuscito a distruggere proprio quello con l'arco. Quindi qua bisogna andare, raga. Bisogna andare. Speriamo che non è quello con l'arco. Se mi butto giù, ci muoio. Distruggo tutto, veramente. Un po' di kill sono sempre... Sono sempre gratite. Un po' di kill. Oh, ma dove mi buttate? Bastardi. Dai, li difendo io. Andate a distruggere il letto. Oh, mi hai rotto. Ok, sei chiuso. Vai, vai. Andate a distruggere. Andate a distruggere. Ci penso io qui. Vai. Non mi farò... Ah, mi hanno massacrato. Non è possibile. Non è possibile. Almeno distruggete il letto, però. Dai, sono... Io... Ok, grandi, grandi. Grandi così. Grandi così. Sono riuscito a farli entrare al centro. Quindi adesso dobbiamo solo distruggerli. Sono nudi. Sono nudi. Che possono fare? Dai. Avete le spade, voi. Tanto muoveranno i nostri amici... Ad ucciderli. Quindi dai. Non possono fare niente. Più che altro hanno le spade, sì, ma... Non ci voglio morire così a caso. Quindi facciamo le cose con calma. Beh, abbiamo vinto. Grande. Li hanno distrutti. Grande Bad Wars. È stato merito mio lì che sono andato. Convinto. Quello si è chiuso per distruggere il letto. E ce l'abbiamo fatta alla fine. Grandissimi. Ragazzi, io finisco il video qui. Spero che vi sia piaciuto. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.